Ciao a tutti, sesta settimana oggi eseguirò tre meravigliosi preludi di Chopin e sono sicuro che farò felice il professor Mimo Arezzo e il signor Luigi Rollo che mi sostengono da tanti anni e sono come veramente altri due nonni. Oggi di Chopin i preludi opera 28 numero 1, 4 e 7. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!